la prima domanda su questo piccolo brano rivisitazione mozzartiana e la scelta del tuo piano se ci puoi dire qualcosa sì allora è un brano che su cui sono già tornato tre volte cioè ne ho fatto tre versioni tre strumentazioni diverse la prima per orchestra molti anni fa quando ero ancora un giovane compositore esordiente e una secco la seconda è questa e la terza l'ho fatta che è stata fatta quindi nel 2012 mi pare e la terza l'ho fatta due anni fa allora il primo si intitola adagio for glass orchestra quindi ho traslato il titolo di di mozart e lo strumento è diventato una grande orchestra bicchieri cioè i musicisti suonano il proprio strumento in più sono anche dei bicchieri il secondo invece questo qui col tori piano e il violino con la sordina di metallo quindi non c'è più riferimento diretto alla glass armonica ma c'è comunque un'idea di suono trasfigurato e il terzo e si intitola adagio ghiacciato e il terzo si intitola adagio di sgelo cioè una versione un po più meno congelata diciamo così dove c'è di nuovo il violino con la sordina di metallo un flauto basso e la viola quindi sono sonorità un po più diciamo leggermente più calde comunque per usare una parola che purtroppo va di modo adesso le varianti sono quelle sarebbero esattamente hai ragione perché questo pezzo è un po un pezzo che mi accompagna durante ne vorrei fare anche una versione per ansambla adesso è un modo così una specie di termometro della mia creatività ci ritorno su ogni tanto siccome ha questa idea del di uno strumento impossibile che la glass armonica mi spinge appunto a trovare ogni volta una nuova versione una nuova interpretazione di questo suono sapendo che la glass armonica anche che era uno strumento così che all'epoca era in voga ma è stato usato anche per esempio da doni zetti il mio compositore il mio contemporaneo nella versione originale dell'area della pazia nella lucia di l'ammermo quindi uno strumento che ha delle connotazioni un po di fantasma un suono un po che alleggia nell'aria e questo per me è un grande suggestione sonora cerco quindi è un po come il fantasma perché non ha l'attacco del suono praticamente quasi quindi via da dove viene insomma un po' da esattamente poi è suonato da un musicista che non è né un violinista né un percussionista né quindi non è uno formato specificatamente per suonare questo strumento quindi è un così a proposito adesso scusa mi hai detto la versione per l'orchezza di che anno è? eh penso che sia del 90 non ricordo male tu dicessi a me o a mio fratello Mauro mi ricordo parlando perché ci siamo un po' in quegli anni forse incontrati in qualche occasione spesso che tu soffrivi un pochino del fatto che avendo avuto qualche idea particolare su cosa far fare ai musicisti nella tua musica eri un po' non so se ti ricordi questa tua espressione eri un po' così eh vittima di dover ogni volta inventare qualcosa di strano cioè che eri un po' che si aspettavano da te l'effetto speciale ero un ricordo giusto di questa cosa no? cioè che sì no ricordo giusto è una problematica giusta che non mi ricordavo neanche di avere posto in quegli anni così presto perché poi in effetti ci ho molto riflettuto sul sul fatto che la trovata timbrica la trovata sonora alla fine diventava un limite della mia creatività quindi io sono ho abolito un po' queste anzi sono tornato a una strumentazione puramente di tipo tradizionale non ci sono oggetti strumenti particolari e anche con l'uso delle percussioni sono diventato più sobrio non perché nello stesso tempo invecchiando io sei diventato un compositore conservatore che ritorna a una scrittura di tipo tradizionale semplicemente perché secondo me il tuo più stimolante è inventare delle sonorità nuove con i mezzi tradizionali di cui si dispone l'orchestra o un gruppo da camera è veramente facendo uno sforzo nell'alchimia delle sovrapposizioni dei suoni di trovare qualcosa di fresco nonostante appunto il dispositivo sia un dispositivo sempre inventare nuovi mezzi ma ampliare al massimo poi c'è tutto un discorso che bisognerebbe fare su dove va la musica contemporanea oggi perché secondo me la ricerca puramente sonora è un po' fine a se stessa c'è il rischio che tanti compositori pensino che quello è l'unico modo per far avanzare la musica se ancora bisogna farla avanzare ma in realtà secondo me la ricerca da fare è ancora sulle forme sul modo di attraverso il passato puntare al futuro cioè quindi far emergere delle sonorità che possono appartenere al passato molto evocative e però in un contesto che non è quello beh gli strumenti ti parlo da strumentista secondo me non sono affatto esaurite le possibilità che si possono cioè soprattutto nelle combinazioni sia nell'uso a fondo di uno strumento sia nelle combinazioni tra strumenti di famiglia diverse secondo me c'è ancora tantissimo da scoprire da quel punto di vista sì e infatti la ricerca che si fa sulle tecniche estese definizione che ormai è diventata imperante può essere forviante perché semplicemente studia diciamo tutti i fenomeni secondari di uno strumento ma non si occupa di come combinare i fenomeni principali dello strumento che sono ancora con gli altri strumenti quindi è una specie di ricerca al limite della microscopia ma anche molto individualistica nel senso che i compositori in questione si concentrano sullo strumento specifico lo analizzano in tutte le sue profondità ma poi non sa bene cosa farne quando deve usare queste risorse sonore in combinazione con altre risorse sonore degli altri strumenti diventa molto anedotico quindi molto idiomatico e non si è sempre molto anedotico la verità è che secondo me un compositore come dice la parola stessa deve metterli insieme i suoni e le forme non solo i suoni la forma, il modo di articolare i suoni nel tempo appunto per creare delle forme è importante perché deve dare valore a questi singoli suoni a queste singole emergenze di suono non è il momento in sé affascinante la sonorità può stupire ma è proprio come si costruisce nel tempo la cosiddetta nuova musica, la musica contemporanea chiamiamola come vogliamo perché poi è contemporanea nel momento in cui ci si insomma adesso era contemporanea per noi quando iniziavamo a studiare noti che insomma c'è una stasi da questo punto di vista che poi gli strumentisti sono un po' lontani dal repertorio la maggior parte, almeno non sono specializzati noti che sia un po' stazionale la situazione noto anche con i miei studenti di composizione che sono genere, vengono un po' da tante parti del mondo quindi mi offrono dei punti di vista diversi sono tutti in cerca di dare importanza alla musica ma secondo me agendo non tanto sul linguaggio cioè su come loro possono crearsi una propria voce e che cosa far dire la loro voce ma molto sul, come lo chiamano i francesi, dispositivo cioè io sono un compositore devo avere accesso a delle dispositivi sono l'orchestra, la musica da camera, la musica elettronica quindi nel momento in cui ottengo una patente di compositore poi queste cose mi sono dovute e il pubblico si immagina che facendo parte di questo sistema venga, quando in realtà il pubblico viene finalmente solo perché il pubblico viene non tanto per testimoniare del lavoro di un compositore ma viene perché il compositore attira con la sua creatività qualcuno che ritiene che valga la pena di spendere un'ora, un'ora e mezza per ascoltare la sua musica secondo me ci vorrebbe un po' più di modeste da parte dei compositori anche se è vero che la situazione attuale la subiamo tutti in quanto diciamo minorità, minoranza espressiva però molti secondo me affrontano il problema semplicemente dicendo io ho delle cose da dire, datemi mezzi quando in realtà secondo me c'è una, non dico una rivoluzione ma bisognerebbe tornare a fare una rivoluzione sul linguaggio cosa che è stata fatta dai grandi compositori creativi del passato e che oggi i compositori non hanno più modo, tempo, voglia forse non ci sono le condizioni per farlo cioè si sperimentano mix di situazioni diverse quindi mi avvicino alla musica di consumo di un certo tipo, di un altro tipo perché magari l'ascoltatore è più motivato, più fresco meno imbalsamato e il compositore anche si sente meno imbalsamato ma secondo me il discorso è da fare in profondità cioè io per esempio, non per dare esempi ma il bisogno che sento io è quello di confrontarmi con la grande musica del passato per esempio del rinascimento o del periodo barocco ma anche in una maniera un po' antropologica cioè come se fossero dei compositori che vengono da un altro pianeta, da un'altra cultura perché in effetti c'è molta distanza tra me, tra noi oggi e loro e poi di confrontare queste sorgenti, come si dice, queste fonti con altre fonti di altre culture perché penso che sia questa ricerca di radici comuni può essere molto utile al compositore per capire che cosa del proprio lavoro può arrivare al pubblico che cosa il pubblico capisce, che cosa cerca il pubblico e l'altra cosa da fare secondo me è rivolgersi a un pubblico per esempio di bambini l'esperimento che ho anche fatto un po' nel passato cioè provare a scrivere per un pubblico di bambini e capire che tipo di aspettative possono avere i bambini e io chiamo tutto questo un rapporto, una visione un po' antropologica etno-antropologica moderna cioè come se le differenti culture per via anche della globalizzazione fossero un po' sullo stesso piano e i differenti pubblici per via dei modi di consumo capillari che ci sono oggi internet in primo piano sono tutti un po' appiattiti sulla stessa linea le fonti e il pubblico che ne fornisce sono un po' una specie di identità di unica mazza con una unica identità invece scavando attraverso questa massa di persone per capire quali sono le aspettative, le direzioni le emozioni che circolano secondo me è molto importante quindi parlare a un pubblico in maniera fresca come si parlasse a un bambino proprio per fare questo pubblico che è il grande assente fare lo sforzo di farsi capire perché si dà per scontato che noi abbiamo delle cose da dire e che ci sia un pubblico più o meno educato che li capisca e secondo me non è mai stato così e ancora meno oggi è così il compositore deve veramente rinnovare le proprie fonti ispirative e capire quali sono i meccanismi e non deve chiudersi nessun narcisismo che consiste nel dire io sono uno che ha studiato adesso vi offro una bellissima cosa ve l'ascoltate e naturalmente la capite e naturalmente mi ha applaudito comunque il pubblico che è assente in questo momento storico è proprio assente veramente la domanda scusa pure questa un pochino da presentatore televisivo ma che anche i tuoi colleghi interessava insomma tra colleghi musicisti questo periodo di grande crisi c'è qualcosa che è successo in te come musicista e compositore di positivo nel senso che hai scoperto qualcosa di nuovo proprio a causa di questa crisi ti è venuto in mente qualcosa di ti sei scoperto una parte oppure hai solamente sofferto e smaniato no quello che è successo il primo anno cioè l'anno scorso era che avevo dei progetti in corso fra l'altro ero in ritardo e quindi ho approfittato di questo lungo silenzio per arrivare in fondo e sono stato contento uno è stato eseguito un altro è questo che sto facendo qui ad IRCAM è continuamente rimandato perché gli interpreti sono delle voci umane quindi la voce umana è quella che più soffre di questa situazione esatto e un altro piccolo progetto siamo riusciti a presentarlo nello spiraglio che c'è stato tra la prima e la seconda ondata e quindi ho recuperato il mio ritardo adesso davanti a me c'è molto tempo perché ovviamente i progetti i progetti sono tutti sospesi l'occasione è quella di riflettere profondamente un po' sulle cose che ho detto prima sulle radici antropologiche sulle motivazioni così antropologiche anche che ci spingono a esprimerci in un certo modo e l'altro probabilmente a creare dei progetti dove io sono dentro in prima persona cioè anche proprio a livello direi quasi imprenditoriale per esempio voglio fare un progetto su Pasolini per il 22 perché il 22 è il centenario della nascita e siccome la situazione è quella che è piuttosto di bussare a mille porte provo a essere io la persona che cerca gli interpreti ideali i partner ideali e anche a livello produttivo le risorse quindi è una buona idea voglio finalmente fare un progetto che mi appartiene diciamo al 100% non semplicemente accettare delle proposte quindi si possa dire che la situazione del covid mi ha fatto nascere l'idea che il tempo è breve è lungo e breve nello stesso tempo non va sprecato i pezzi che uno scrive li deve scrivere veramente maturandoli ancora di più penso perché appunto c'è questa responsabilità di lasciare delle cose che non nello spreco generale parlo dei problemi del pianeta ma anche nella situazione preziosa di difficoltà nell'ascolto che ha creato il virus le occasioni dell'ascolto in buone condizioni sono diventate poche bisogna saperle prendere al momento giusto quindi penso che la responsabilità data al compositore è ancora maggiore bisogna scrivere insomma della buona musica e non tanti pezzi solo da bambino abitavo vicino casa di Linetto Tavoli pensate sono cresciuto ah ecco eh mi piacerebbe incontrarlo io lo faccio con l'Italia di Roma un po' così e l'idea poi se non so uso questa finestra che tu mi dai per fare non per fare mia pubblicità ma per fare pubblicità degli interpreti che ho conosciuto si chiamano Grande la Voix è un gruppo fiammingo che fa quindi il repertorio rinascimentale e per il barocco hanno fatto come ultimo disco un bellissimo disco Gesualdo con i responsori delle tenebre della settimana santa e loro non sono non fanno musica contemporanea ma sono entrato in contatto con loro e intanto ne parlo perché appunto vengono conosciuti in Italia perché non sono conosciuti ma poi vorrei lavorare con loro perché hanno questa dimensione un po' pasoliniana cioè sono cantanti che vengono da varie parti del mondo con quindi tipologia di canto anche diverse bizantino maronita poi educato insomma per la musica classica e sono un po' come gli attori di Pasolini Pasolini mischiava attori professionisti e attori presi dalla vita ecco e io trovo che nel loro Gesualdo per esempio questa sintesi di personalità diverse di culture musicale diverse funziona perfettamente perché nello stesso tempo c'è uno sguardo un modo di vedere le cose filologico nel senso che ovviamente le fonti sono importanti rispetto alle fonti importanti ma ogni cantante apporta una sensibilità una vocalità un po' particolare e poi si tratta di trovare la sintesi e quella è la visione antropologica cioè mi piacerebbe arrivare a questa specie di incontro tra passato futuro cultura mia nella quale mi sono formato cioè quella della musica occidentale che si chiama colta che noi chiamiamo colta e poi anche qualche cultura musicale che mi circonda per esempio sono affascinato appunto dalla musica ortodossa e dalle ornamentazioni di quella musica e del canto e della tradizione maronita confine tra tra la smania di diciamo voracità rispetto alla alle bellezze che non conosciamo e quando scopriamo tra quello e poi in che modo il compositore però può diventare coprotagonista oltre che solo mangiarsela insomma la può in qualche modo ridonare travestita insomma questo deve essere l'aspetto penso che ti interessa cioè entrareci dentro esattamente e lo si può fare anche come si contemporanea in maniera in maniera più insomma Berio a volte che era uno dei primi che ha il gusto di manipolare di mi piacerebbe farlo con ancora più finezza se si può dire ma proprio nello scopo quello scopo di di far di valorizzarle queste culture queste modalità non semplicemente di approfittarne in quanto compositore non è per me ma proprio è per loro rendere omaggio con la maniera più creativa possibile